Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e nel video di oggi vedrete la challenge, la book challenge, in cui leggo 7 libri in 7 giorni. Sto registrando quest'intro quando ho finito ormai la challenge, è infatti l'ultimo giorno, non vi dico come andrà a finire, ma vi lascio alla me del passato. Prima una piccola premessa, ovvero questa challenge ovviamente ha il puro scopo di divertirsi, nel senso che io non vedo la lettura come una sfida in tutto e per tutto e quindi non è la mia intenzione quella di leggere più libri possibile nel minor tempo possibile, anzi, semplicemente ho approfittato per tenere da parte un po' di libri brevi negli ultimi mesi per poter fare questa challenge. Quindi ho selezionato libri abbastanza corti che mi permettessero quindi di leggere, allo stesso tempo vivere e allo stesso tempo insomma fare tutto quello che faccio di solito durante la settimana senza essere oppressa dai libri o dall'ansia di non riuscire a leggere 7 libri in 7 giorni. Quindi vedo questa sfida come una cosa molto divertente da prendere con tranquillità, se vi mette ansia l'idea di leggere così tanti libri in così poco tempo non fatelo assolutamente, io ritengo che come prima cosa la lettura debba essere un'attività piacevole e se dover leggere un libro in breve tempo la fa diventare un'attività frustrante allora non fatelo insomma, non prendetemi da esempio. Quindi spero che lo scopo di questa challenge sia chiaro, ovvero divertirsi e basta. Dunque io vi lascio la me del passato che vi racconta tutto quello che è successo, ok torniamo indietro di qualche giorno. È il 18 marzo e ho deciso di incominciare la challenge in cui leggo 7 libri in 7 giorni, sono circondata da animali. Voi non potete vedere ma ho un gatto qui e un cagnolino qui che non è molto fotogenico. Comunque uno tipo piagnucola e uno miagola. Speriamo che non si facciano i dispetti, comunque ecco non fatevi dispetti. Non posso farvi vedere perché ho tutta un'apparecchiatura qua impostata però sì. Ok, quindi questa è la situazione. Adesso devo anche accarezzare con una mano d'ago perché sennò si offende. E insomma non penso che inizierò a leggere oggi i libri, quindi la challenge non parte da oggi. Ma, ok, volevo decidere almeno quali libri saranno i prescelti. Quindi parto col mostrarvi alcuni nuovi arrivi perché alcuni di questi forse li leggerò. Quindi ve li mostro da qui perché vado meglio. Ho ricevuto una serie di libri, questi sono tutti libri che ho ricevuto gratuitamente dalle case editrici. Quindi non si tratta di acquisti, sto ancora rispettando la mia promessa di non comprare libri fino a marzo. Quindi fino a finito marzo, fino a finito marzo. Questi sono libri che ho accettato di ricevere dalle case editrici. Ne ho due ricevuti da Fazzi Editore, ve li ho già mostrati su Instagram. Una vita da ricostruire, che è il primo di una trilogia ambientata a Berlino nel secondo dopoguerra. E si dovrebbe parlare di donne, di moda, cose che mi interessano molto. Non so se sapete, ma io sono laureata in design della moda. Quindi tutto quello che ha a che fare con la storia della moda per me è super affascinante e non vedo l'ora di leggerlo. Mentre il secondo libro è questo romanzo scritto da un'autrice italiana, Giorgia Tribuiani. E dovrebbe parlare di Blu, che è il soprannome di Ginevra, la protagonista. Che è una studentessa liceale che sembrerebbe abbia tantissimi problemi. Un romanzo forte e diverso che ci trascina nella mente claustrofobica di un adolescente prigioniera di azioni morbose, incomprensibili, eccetera, eccetera. Questo forse lo potrei leggere in questi giorni. Vediamo, perché nelle letture che ho appena finito sono tutte state molto intense e molto pesanti a livello emotivo. Quindi forse stavo cercando qualcosa di un po' più leggero. Comunque, vediamo. Ho ricevuto poi tre libri giganteschi da Ippocampo e sono davvero contentissima. Quando mi hanno contattato ero tipo, ok, posso chiudere tutto, il mio sogno nella vita si è realizzato. E ho ricevuto in particolare due graphic novel. A partire da questa, che è una delle loro nuove uscite, Primaverili, ed è una graphic novel dai toni pastello. Questa mi sa proprio che la leggerò in questa challenge, anche se vorrei leggere anche questa, che è una graphic novel invece sulla bomba atomica. E in questo caso è in bianco e nero, penso che si veda. È un bel mattoncino, mi ispira tantissimo, tutte le cose storiche mi affascinano molto. E quindi vorrei leggere anche questa, che sarebbero già due libri su sette, invece volevo un po' variare, volevo prenderne un po' uno di ogni tipologia. Quindi vediamo. E dopodiché ho ricevuto anche questo, che è La storia degli alberi, ed è sempre un libro illustrato in cui in ogni pagina si parla di un albero diverso. Tra l'altro in questo libro ho scoperto che l'albero di Pistacchio è intanto un albero, io pensavo fosse tipo un cespuglio, ed è completamente diverso da quello che mi aspettavo. Adesso non riesco a trovare ovviamente la foto dell'albero di Pistacchio. Ah sì, eccolo qua. Cioè, è così. Io sconvolta. Cioè, ma cos'è? Cos'è questa cosa? Non so, perché pensavo fosse un cespuglio che faceva i pistacchi. Ok, ignoranza. Quindi, adesso cerco di capire poi anche in base a cosa trovo nell'alberia dietro, quali libri scegliere. Leggerò sicuramente anche un libro per l'università, perché devo prendermi avanti, ho tantissimi libri di testo. E qua ne ho selezionati per il momento tre, tra i quali devo scegliere. In base a cosa sceglierò? Non lo so. Intanto ho preso quelli che secondo me sono più scorrevoli e più brevi, perché comunque sette libri in sette giorni sono tanti e mi voglio un po' facilitare. E sono indecisa e ci devo pensare. Questo è sulla creatività, il problem solving. Questo invece è sull'influencer marketing. E questo sulla creatività. Questo tra l'altro è stato scritto da uno dei miei professori universitari, mentre questi due no. Questo comunque è sempre dello stesso corso, questi due sono dello stesso corso. Quindi magari per prendermi avanti e leggerne almeno uno per questo corso, leggerò questo. Non lo so. Non lo so. Devo decidere. Comunque, di sette libri, due saranno sicuramente. Uno una graphic novel e uno un libro per l'università. Me ne mancano cinque da scegliere e adesso guardo qua dietro che cosa trovo e cerco un attimo di tirare fuori le robe che mi interessano di più. Allora, ho tirato fuori sette libri, ma mi voglio prendere la libertà di cambiarli nel corso della settimana se ho bisogno di leggere qualcos'altro. Nella challenge che ho fatto un anno fa, dieci libri in dieci giorni, avevo scelto tutti i libri prima e avevo deciso di leggere un libro al giorno. Mentre in questa challenge vorrei fare una cosa leggermente diversa. Vorrei ottimizzare i tempi leggendo quello che ho voglia di leggere nel momento in cui ho voglia di leggerlo. Quindi non leggere per forza un libro al giorno, ma variare le letture in base appunto al mio umore. Quindi ad esempio ho preso questo libro qui, che è quello che vi ho mostrato prima, una delle nuove uscite di Fazzi Editore, da leggere la sera. Infatti la sera ho bisogno di un bel romanzo tranquillo in cui posso immergermi e allontanarmi un po' anche dalla realtà o da ragionamenti complessi. E questo ad esempio potrebbe essere adatto a questa esigenza. Quindi sarà il libro che leggerò di sera durante questi sette giorni. Per l'università ho scelto questo e questo so che sarò molto motivata a leggerlo perché sto seguendo il corso, quindi ho bisogno di informazioni. È un libro che posso leggere tranquillamente durante la giornata e durante il pomeriggio. Ho preso anche altri due libri saggi, diciamo. Uno è femmine ed è un mini saggio di Nero Edition, super leggero. Si tratta di un saggio di cento pagine, un po' di più di cento pagine. E per questa ragione spero di riuscire a leggerlo tranquillamente in un'altra volta. O magari dividendolo anche in più giorni, ma comunque non dovrebbe prendermi tanto tempo. Dopo di che ho preso quest'altro libro, tra l'altro che ho preso in scambio, ed è Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Voglio leggere questo libro da tantissimo tempo e tolgo questo nastrino. Dovrebbe essere adatto a quello che voglio fare perché anche qua sono cento pagine, quindi è leggero e mi facilito un po' la questione. Poi ho scelto Siddhartha di Herman S, che è uno di quei libri di cui tutti parlano, che vedo sempre in giro. Un libro consigliatissimo da chiunque e volevo farmi un'opinione personale su questo libro, perché ho sentito anche opinioni negative. Però, insomma, da capire, da capire. Dopo di che ho preso anche Alessandro Barricco, Seta, è un po' la stessa cosa. Io non sono una gran fan di Alessandro Barricco, anzi, e ho preso questo libro in scambio per capire di come è fatto, di che cosa parla, e se effettivamente è valido o faccio bene ad avere tutti dei preconcetti in testa. In generale, quando ci sono libri come questi, di cui si sente parlare o in modo molto molto positivo o in modo molto molto negativo, mi piace leggerli e farmi un'opinione personale. E anche se parto sempre con un freno un po' mentale, cerco di eliminarlo completamente e partire a mente vuota e farmi proprio un'opinione mia. Quindi, secondo me, è una buona occasione questi, perché sono comunque libri abbastanza brevi. E poi ho scelto di leggere questa graphic novel. Se dovessi leggere, riuscire a leggere tutto, ma ho i miei dubbi, potrei anche decidere di incominciare La Bomba, l'altra graphic novel, perché comunque mi interessa tantissimo e non vedo l'ora di leggerla. Insomma, in questa challenge riuscirò a fare una delle cose che voglio fare prima di ricomprare altri libri, ovvero smaltire quelli che ho qui in libreria da un sacco e devo leggere. Quindi, benissimo aver scelto dei libri così brevi, perché in questo modo me li tolgo subito e gli do, quindi, quest'occasione. Sono molto contenta. Se durante la settimana dovessi rendermi conto che ho voglia di una storia un po' diversa, cose così, e magari un po' meno saggi, un po' più romanzi, faccio un cambio in corso d'opera e cambio qualche titolo, però mi sembra molto bene così. È venerdì 19 marzo, sono le 16 e 16 minuti, e sto per iniziare la challenge. Oggi ho registrato il video in cui vi commento l'eleganza del riccio, la prima parte perché questa sera penso che guarderò il film e poi farò anche in quel video un paragone tra libro e film, però nel mentre ho finito ovviamente il libro che dovevo leggere e quindi sono pronta a iniziare questa challenge. Ho deciso che, iniziandola ovviamente alle 16 e 16, avrò anche di venerdì prossimo, quindi fra sette giorni, tempo fino alle 16 di pomeriggio almeno per terminare i libri, perché altrimenti mi sono già mangiata la giornata. Devo decidere da cosa iniziare e ho qua tutti i libri che avevo scelto, ora sono le 4, io alle 5 e mezza ho una riunione su Meet con alcuni miei compagni per un progetto di gruppo, quindi non è che ho tantissimo tempo per leggere, un'oretta. E non so da cosa iniziare, sono davvero in dubbio su cosa iniziare. Già siamo in difficoltà, penso che inizierò da questo, non so perché ho voglia di iniziare un altro romanzo, o questo o la graphic novel in modo tale che anche se ho un po' la mente che vaga, perché appunto ho un po' di pensieri in questo momento anche sul progetto che dobbiamo fare, riesco a distrarmi. E con le graphic novel mi è molto più facile distrarmi che rispetto a quando incomincio un nuovo libro proprio da capo, che non so ancora come sia. Comunque uno di questi due libri. Ok, quindi questo era un breve, brevissimo aggiornamento e adesso scelgo cosa iniziare. E nulla, mi ero appena messa sul divano, stavo per incominciare a leggere quando ho ricontrollato il messaggio dei miei compagni e l'incontro in realtà alle 16.30, quindi esattamente fra un minuto. Non ho iniziato a leggere nulla, quindi non vale, postici però ancora per un po' la challenge e inizierò più tardi. Ore 18.57, quindi direi di far partire la challenge alle 19.00. Mi sono messa qua sul divano con tutti i libri, li ho portati tutti per poter scegliere con accuratezza. Adesso li prendo un po' in mano, li sfoglio e in base a cosa sento che mi sta chiamando di più inizio. Puoi ripetere all'inizio che non ho ripreso? Giudica i libri che devo leggere. Questo anche? Sì. Aggiungo questo? Eh sì. Bello, questo è meraviglioso. Questo non ho letto, questo non ho letto. Questo è un kite. E questo non ho comment. Ok, grazie. Ho appena finito di leggerlo, devo un attimo metabolizzare perché non me lo aspettavo per niente così, devo dire, quindi ve ne parlerò sicuramente domani. Comunque mi ha colpito molto questa graphic novel. Qua c'è un gattino. Ciao gattino! È sabato e sono le 12 e 21. Questa mattina ho fatto tutta una serie di cose tra cui rifare il letto, lavarmi i capelli, ho fatto una passeggiata con il mio cane, ho fatto colazione con calma e ho anche iniziato un nuovo libro. Essendo sabato, è ufficialmente iniziato il weekend e oggi e domani saranno sicuramente i giorni in cui potrò leggere di più in assoluto, quindi ci devo dare dentro. Volevo iniziare questo aggiornamento parlandovi del libro che ho finito ieri, che è il primo libro finito della challenge, che è la graphic novel su Anais Nin. Anais Nin è una scrittrice realmente esistita, io non sapevo nulla di lei, ma dopo aver finito questa graphic novel sono andata a cercare molte informazioni perché mi ha incuriosito davvero molto la sua storia. Lei è ricordata, oltre che per i suoi scritti, per aver avuto una relazione con Harry Miller, che è un altro scrittore molto famoso americano. Oltre ad aver avuto una relazione con lui, tra l'altro una relazione che ha avuto mentre era sposata con un altro uomo, quindi una relazione adultera, adultera si dice vero. Ha avuto anche diverse altre relazioni incestuose nel corso della sua vita, molto scandalose anche, come ad esempio una relazione con suo padre o anche relazioni con i suoi psicologi. Lei è andata in terapia con due diversi psicologi ed ha poi effettivamente avuto delle relazioni con loro. In questa graphic novel si racconta tutto questo, è una graphic novel sicuramente molto scandalosa, l'ho detto, io sono rimasta sconvolta. Ci sono stati proprio dei momenti in cui pensavo semplicemente che fossero delle sue fantasie che lei riportava nei suoi diari. Infatti si parla molto dei diari che lei teneva e alcuni dei suoi diari sono poi diventati anche libri veri e propri, infatti ho visto su internet che alcuni sono stati pubblicati. Pensavo fosse solo la sua fervida immaginazione quando in realtà lei è stata proprio una donna che non si è mai trattenuta, non ha mai inchiuso i suoi istinti in una gabbia, ma si è sempre voluta esprimere in tutto e per tutto, con tutti i suoi desideri, con tutto il suo istinto primordiale, potremmo definirlo così. E sono davvero rimasta sorpresa da questa graphic novel, devo dire. Oltre che per la storia, che è una storia che sicuramente mi ha colpita, per i disegni che sono fantastici, sono davvero incredibili. Ci sono questi colori pastello e questo tratto proprio tipico del pastello. Ogni disegno in questa graphic novel è davvero studiato nei minimi dettagli e con un'accuratezza incredibile. Sono rimasta proprio affascinata dai disegni, sarei rimasta ore e ore su ogni pagina. Tra l'altro sono contenta anche di aver già terminato un libro, perché questo mi dà molto aiuto per la motivazione di andare avanti. Cioè l'idea di aver già letto un libro mi fa stare tranquilla, mi fa dire ok, una cosa l'ho fatta, ora procediamo con calma. Ho iniziato a leggere anche questo qui, che è Una vita da ricostruire, e ho letto 32 pagine. Allora, forse è un po' difficile leggerlo, perché ci sono tantissimi personaggi e tantissimi nomi, e sinceramente sto facendo molta fatica a entrare nella storia, perché ci sono davvero troppi personaggi e io non mi ricordo chi è chi. E quindi sono un po' tentata di metterlo da parte e di iniziarne un altro. Volevo un romanzo un po' più lungo da leggere ogni sera e da portare avanti per tutta la settimana, ma non sono sicura che questo sia il romanzo giusto, almeno per il momento, perché ci sono davvero tantissimi personaggi. Ora, io non so se abbandonarlo e cambiarlo con un altro, quindi fare uno switch, avevamo detto che si poteva fare, oppure continuare. Devo decidere, deciderò off camera, perché ho bisogno di tranquillità per prendere una decisione del genere. A parte questo, ho iniziato Femmine, di Andrea Long Chu, non so come si pronuncia, e sono arrivata già a metà, perché ho letto 53 pagine di 100 pagine. È un brevissimo saggio, edito Nero Edition, e io adoro queste edizioni, perché ogni volta che ne leggo uno mi sembra sempre di scoprire un mondo che prima non conoscevo. Sono dei libri sempre molto estremisti nel presentare i loro concetti, o in generale sono dei libri sempre con delle ideologie molto ben definite, molto radicalizzate, e le persone che scrivono questi libri appunto fanno parte magari sempre di un movimento, o comunque di una corrente di pensiero ben incasellata, e quindi sono sempre persone, quelli che scrivono questi libri, dalle idee molto chiare. E mi piace molto vedere come anche dei movimenti magari molto estremisti, o delle correnti estremiste, possono allo stesso tempo dare una visione del mondo, con la quale possiamo non concordare, però allo stesso tempo che ci dà tantissimo. Aprire i propri immaginari. E le edizioni Nero fanno questa cosa qua, perché non mi è capitato solo con questo libro, mi è capitato anche ad esempio con Xeno Femminismo, Scrittura Non Creativa, e poi Caccia alle streghe, Guerra alle donne, tutti questi libri qua mi hanno proprio spinta a mettere in discussione quello che credevo. Detto questo, allora io continuerò a leggere questo oggi, poi vedo se cambiare questo, e inizierò sicuramente qualcos'altro, perché oggi appunto è uno di quei giorni in cui voglio immergermi completamente nei libri da leggere. Ore 22.08, aggiornamento molto veloce prima di andare a dormire, ho letto e finito Femmine, e ve ne parlerò domani. Farò un mini riassunto per quanto possibile, perché è un libro comunque molto complesso, e non so quanto sarò capace di raccontarvelo. Comunque è davvero molto illuminante. E ho approfittato della giornata libera per leggere anche Seta. Ho finito di leggerlo, ho letto tutto, devo dire che non è stato difficile perché, come potete vedere, sono capitoli brevissimi e molto corti, e sono anche pochissime pagine perché sono circa 100 pagine, e quindi non è stato assolutamente difficile finirlo. E sono quindi a quota tre libri letti, non male. Bene, bene, spero domani di riuscire a leggere ancora qualcosa. Ah sì, ho iniziato anche questo, Web Creativity, e sono arrivata a pagina 43. Quindi sono ancora all'inizio. Bene, dai, è stata una giornata molto produttiva, sono contenta. Domenica. Ieri sera ho iniziato a leggere Siddhartha, l'ho letto prima di andare a dormire, ho letto qualche pagina e sono arrivata a pagina 44. Devo dire che mi sta piacendo, però penso che lo terrò per la sera, o comunque in generale magari questo pomeriggio vado anche un po' avanti, però non lo leggo adesso. Infatti adesso pensavo di continuare a leggere questo libro che sto leggendo appunto per l'università, e quindi andare avanti con questo. Grazie. 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 Sono le 13 e 08. Io sto per andare a mangiare, ma prima volevo fare un breve aggiornamento. Infatti ho iniziato praticamente quasi tutti i libri che ho scelto per la challenge, tre vi ho fatto già vedere li ho finiti, e l'unico che mi manca da iniziare è questo, che comunque è molto breve, quindi insomma non mi preoccupa particolarmente. Allo stesso tempo vi avevo detto che avevo iniziato una vita come tante, però ho deciso di interromperlo, cioè di metterlo da parte, lo leggerò magari più avanti quando avrò più tempo, più calma, e sarò più in quel mood, perché in questo momento non è quello che stavo cercando. Quindi ho riguardato la libreria e ho tirato fuori altri libri, che invece secondo me potrei leggere in questi giorni. Uno è Le Signore in Nero, uno è un libro di poesie, non vedo l'ora di dimenticarti per sempre, e uno è Scherzetto di Starnone. Sicuramente Scherzetto di Starnone è un libro molto scorrevole, se è come gli altri libri che ha scritto appunto Starnone, e so già che se lo inizio in due giorni dovrei averlo terminato. Quindi sicuramente sarebbe una buona scelta per portare avanti la challenge, perché appunto so che non riscontrerei particolari difficoltà. Allo stesso tempo anche questo libro di poesie è abbastanza scorrevole, perché appunto ovviamente quello che bisogna leggere è molto meno, però lo voglio leggere. Questo mi è stato proprio offerto in gentile dono da parte della casa editrice, e quindi sono molto curiosa di leggerlo, anche per darvi un'opinione personale su questa linea editoriale. La casa editrice è Alisa Editore, e la collana in particolare è quella di InstaPoeti. Trovate anche la loro pagina su Instagram. Ma sicuramente se dovessi scegliere questi due, riuscirei a leggerli tutti e due, quindi diventerebbe una challenge, tipo molti più libri in sette giorni. Può essere presa come una sfida? Assolutamente sì. Anche perché penso che lo scopo generale sia quello di leggere più libri possibili nella libreria, in modo tale da smaltirli, e soprattutto ho voglia di leggere questi due libri, quindi mi sembra l'occasione giusta da prendere al volo. E potrei aggiungerci anche Le Signore in Nero. Vabbè, vedrò cosa riesco a leggere. Comunque se riuscissi a leggere anche più libri di sette, sarei molto contenta perché è un po' quello che voglio fare, cioè smaltire un po' di libri nella libreria, e ho voglia di leggere in questi giorni, quindi benvenga a cogliere questa voglia e approfittarne finché c'è. No, dai, rimani qua. Ok, è pomeriggio. Ciao, signor gattino. È pomeriggio e io mi sto mettendo qua un attimo per parlarvi dei libri che ho finito di leggere, quindi ho finito questo e questo e tra l'altro questo pomeriggio ho anche iniziato a leggere Una stanza tutta per sé. Ho letto per adesso 33 pagine. Devo dire che con questa storia per cui sto leggendo più libri contemporaneamente me la passo anche di più perché non mi annoio mai. Quando inizio a sentire pesante leggere uno stesso libro, lo cambio. In questo modo mi sento sempre molto concentrata e molto attirata da quello che c'è scritto. Quindi anche questo libro qua, lo dovessi leggere tutto di seguito, mi annoierei molto probabilmente, mentre alternarlo con altre letture me lo fa pesare molto meno. Per questa ragione appunto mi piace questa cosa che sto facendo di leggere molti libri, anche brevi, però contemporaneamente. Non sono andata avanti con questo, non sono andata avanti con Siddharta. Qui ho letto appunto 30 pagine, mentre qui sono arrivata a pagina 90, quindi sono circa a metà, considerando che ci sono 180 pagine. Per quanto riguarda i libri che ho finito, parto col parlarvi di femmine, che mi è piaciuto davvero tanto. È un libro appunto con una tematica molto estremista, ma questo ve l'avevo già anticipato, e in poche parole la tesi del libro è che tutti siamo femmine. Tutti siamo femmine, però viene data una definizione molto specifica a quello che significa femmina. Infatti femmina significa qualunque operazione mentale che sacrifica il sé per far spazio ai desideri di un'altra persona. Quindi la definizione di femmina non viene data in base al genere maschile o femminile, in base alla distinzione classica uomo-donna, ma in base all'attitudine di una persona di rinunciare al sé per qualcun altro. E devo dire che ho apprezzato molto questa definizione e come è stata spiegata nel corso del libro, e appunto qui dice proprio la tesi di questo piccolo libro è che il sesso femminile è un sesso universale, definito dall'autonegazione, contro il quale l'intero spettro della politica, politica femminista inclusa, si ribella. In parole più semplici, siamo tutti femmine e tutti odiamo esserlo. È un libro quindi che non si definisce un libro femminista, anzi tutt'altro, e che contiene al suo interno tantissime altre citazioni di altri movimenti, di altri manifesti, come ad esempio in particolare il manifesto SCUM, che penso si pronunci così, di Valery Solanas. Valery Solanas è stata appunto un personaggio, una donna che nel corso degli anni 60-70 ha avuto, oltre che una vita molto particolare, in quanto ad esempio ha sparato ad Andy Warhol, ha avuto una vita politicamente molto attiva, in cui appunto ha scritto questo manifesto che professava la supremazia delle donne rispetto agli uomini e che voleva anche addirittura reclamare la fine del sesso maschile attraverso proprio l'eliminazione degli uomini dal mondo tramite la selezione sessuale tecnologicamente assistita del feto. Quindi proprio un personaggio estremista che non voleva più che gli uomini esistessero e voleva solo le donne. Allo stesso tempo un personaggio molto controverso che oltre ad aver scritto questo manifesto ha scritto anche un testo teatrale che si intitola In culo a te a cui si fa riferimento per tutto il libro perché l'autore o autrice io non so come definirlo perché Andrea Longshu è trans e ha fatto la transizione di genere da uomo a donna e diciamo che si definisce anche lui stesso, lei stessa all'interno del libro a volte col maschile a volte col femminile quindi non so esattamente come definirlo io sono un po' confusa però Andrea Longshu fa riferimento a questo testo teatrale anche solo partendo dai nomi dei capitoli che sono delle frasi che i personaggi di questo testo teatrale dicono durante il testo teatrale e si riflette appunto su cosa vuol dire essere femmina e ci sono tanti riferimenti anche appunto a altri movimenti questo l'ho detto ad esempio al movimento TERF che è il movimento contro i trans quindi le femministe radicali trans escludenti o si fa riferimento anche a un altro movimento che mi ha fatto molto sorridere adesso ve lo dico anche che è il movimento MGOTW ovvero Men Going On Their Own Way quindi un movimento della maschiosfera in cui i membri fanno appunto parte di questa comunità antifemminista che professa quindi il separatismo maschile e ritiene che il femminismo sia colpevole di una deriva ginocentrica della società, della cultura di massa quindi insomma si parla di tutti questi movimenti lì si mette un po' a confronto si portano degli esempi concreti di persone, di cose e insomma io trovo che questo libro sia davvero molto molto ricco sia di spunti per approfondire di più sia appunto come strumento per ampliare i propri orizzonti e scoprire una visione diversa dalla nostra questo discorso comunque l'ho già fatto quindi direi che per quanto possibile ho cercato di riassumere questo libro ma fidatevi che per quanto sia breve in questo libro vengono tirate in ballo tantissime cose viene messa un sacco di carne al fuoco e adoro questi brevi saggi nero l'ho già detto ma lo ripeto lo stesso proprio perché sono brevi ma sono davvero belli carichi belli concentrati passiamo al prossimo libro che ho finito di leggere che è Seta di Alessandro Baricco come avete visto ieri sera come vi ho fatto vedere questo libro è davvero molto breve i capitoli sono molto corti ed è sicuramente anche come scrittura e come poi di conseguenza lettura molto scorrevole è un libro che porta con la mente in luoghi molto lontani perché il protagonista è francese ma fa questi viaggi in oriente in Giappone e quindi c'è nonostante Alessandro Baricco sia italiano una... sì perché è nato a Torino ho controllato una forte multiculturalità potremmo dire in questo libro allora io sono partita prevenuta perché Alessandro Baricco per me è uno scrittore un po' X per quanto sia osannato da molti secondo me non è particolarmente spiccato il suo modo di scrivere spiccato non è particolarmente mi verrebbe da dire anche ricercato il suo modo di scrivere non scrive dei libri che secondo me proprio colpiscono e rimangono ma scrive piuttosto delle storie carine simpatiche di grande intrattenimento che però lasciano il tempo che trovano e leggendo Seta mi sono sicuramente convinta ancora di più di questo perché è un libro che appunto si legge in un pomeriggio tranquillamente un libro che fa vagare la mente in luoghi lontani che ha anche quasi un filtro fiabesco e quindi sembra quasi di leggere una favola però poi di per sé se non questo aspetto non lascia molto altro non c'è una morale forte o se c'è una morale è proprio la classica morale delle fiabe e non colpisce secondo me più di tanto questa è la mia opinione poi so che ad esempio è il libro preferito di molti infatti secondo me è il libro giusto se siete in un momento della vita in cui ad esempio non avete voglia di leggere non trovate un libro che riuscite a concludere volete un libro breve efficace che dice quello che deve dire che non dice di più che non dice di meno insomma che è esaustivo allo stesso tempo breve che non sia un mattonazzo e che vi coinvolga è il libro giusto però allo stesso tempo non è di più di questo non so dire non so spiegare leggendo tanti libri un libro così io me lo dimentico in poco più di una settimana perché appunto non lo trovo tagliente anche solo per dire femmine io cioè me lo ricordo insomma me lo vado anche a rileggere mi vado a rileggere nei prossimi mesi mi verrò sicuramente a rileggere alcune frasi alcuni concetti è un libro che si mi apre la mente mi porta in posti lontani ma poi mi lascia anche un proprio una conoscenza in più mentre un libro come questo insomma appunto ripeto lascia il tempo che trova non so come altro come altro parlarvene sicuramente uno di quei libri che consiglio se siete nel blocco del lettore se cercate qualcosa di breve se cercate anche un po' una storia insomma che intrattenga non so non so che altro dire detto ciò io appunto rimango con i miei tre libri in corso e continuo ad andare avanti un po' alla volta con tutti e tre e alternandoli adesso penso che leggerò questo 13 e 49 questa mattina è stata una mattina molto impegnativa perché ho seguito la lezione che avevo per l'università dal computer perché siamo tutti chiusi in casa ovviamente tra l'altro abbiamo anche fatto un progetto di gruppo quindi fino alle 13 e 30 diciamo che sono stata bloccata il computer non ho potuto leggere ho appena finito di mangiare e adesso mi metto a leggere sperando sperando di non addormentarmi perché sento proprio l'abbiocco post pranzo quindi spero di riuscire a reggere un po' più di 10 pagine e portare avanti le mie letture ieri alla fine sono andata avanti semplicemente con Siddhartha perché ho letto solo dopo aver cenato e prima di andare a dormire quindi sono andata avanti con questo libro e sono arrivata a pagina 79 quindi un po' più di metà e adesso penso che continuerò con questo e comunque ho ancora in corso anche una stanza tutta per sé e il libro di Web Creativity che è poi tra l'altro il corso che ho fatto questa mattina il corriere dicevo che il libro di Web Creativity è il libro del corso che ho seguito questa mattina quindi mi è tornato molto utile averlo letto questo weekend e nulla adesso vado a leggere è martedì è più o meno l'ora di pranzo ho appena finito lezione e non ho letto molto ieri ho letto davvero pochissimo però allo stesso tempo ho finito un libro perché ho finito di leggere Siddhartha non mi mancavano tantissime pagine infatti l'ho letto un po' al pomeriggio e un po' alla sera e bene o male sono riuscita a finirlo e non sono andata avanti con nient'altro quindi in realtà ieri è stato un po' un disastro perché insomma ho letto poco però vabbè me lo aspettavo mi aspettavo che la settimana sarebbe stata più difficile e sarebbe stato più difficile trovare il tempo per leggere quindi ho fatto bene a leggere molto durante il weekend e niente vi parlo brevemente di questo libro che mi era stato presentato come un libro che mi avrebbe cambiato la vita diciamo un po' questo mi era stato detto di Siddhartha e invece non è stato così non dico che sia un libro che non mi è piaciuto perché secondo me ha i suoi aspetti positivi ci sono molte cose che ho apprezzato di questo libro se sentite russare è il mio cane che sta dormendo qua sotto di me però allo stesso modo non posso dire che è un libro che mi ha cambiato la vita sicuramente si tratta di un libro di narrativa filosofica o comunque ho visto che è stato definito così e ho apprezzato molto questa definizione perché secondo me rappresenta molto il genere letterario e parla di Siddhartha che è questo ragazzo inizialmente un ragazzo ma poi lo vediamo crescere quindi vediamo lo svolgersi della sua vita che vive in India e che cerca in tutti i modi un po' il senso della vita e lo cercherà vivendo in modi totalmente diversi fra loro e cercando quindi poi alla fine se stesso si riesce a vedere in questo libro un po' questa ciclicità della vita questo morire per poi ricominciare diciamo rinnegare se stessi per poi cercarsi di nuovo che è sicuramente un sentimento diciamo che possiamo sicuramente aver provato quindi è un libro in cui secondo me ci si può rispecchiare e in cui si possono trovare degli insegnamenti di vita interessanti allo stesso tempo non apprezzo molto i libri così espliciti da questo punto di vista quindi i libri in cui si vuole insegnare alla gente come vivere o cose di questo tipo perché li vedo soprattutto molto personali cioè ognuno ha il suo modo di cercarsi i suoi meccanismi dà i suoi sensi alla vita diciamo e quindi o il libro è effettivamente molto vicino a cosa pensiamo noi della vita oppure lo troviamo un po' sì ok però non è come la vivo io e in questo caso è stato così quindi so che ad esempio in molti l'hanno apprezzato ma perché può essere effettivamente che in molti si riconoscano nel modo di vivere di Siddhartha io personalmente no comunque è un libro che si fa leggere tranquillamente devo dire che mi è piaciuto il fatto che ho trovato diverse cose in comune con Seta di Alessandro Baricco quindi ci sono anche qua dei richiami orientaleggianti e poi c'è un paragone simile sull'uccello e l'uomo quindi su questi uccelli che vivono in gabbia e poi le gabbie si aprono e si libera un po' lo spirito diciamo succede questa cosa sia in Siddhartha che in Seta quindi mi è piaciuto il fatto che ci siano delle analogie tra i due libri e nulla oggi vado avanti con gli altri due spero di finirli e se riesco inizio anche un terzo che sarebbe poi il settimo libro della challenge sono le 8 e 20 ho finito questo pomeriggio di leggere Web Creativity essendo questo un libro che ho letto per l'università e tra l'altro scritto da un mio docente ho deciso di non parlarvene perché intanto rischierei di espormi troppo e inoltre non è un testo che comunque in generale vi consiglio perché è appunto un testo universitario io l'ho studiato proprio perché il mio corso lo richiedeva e quindi insomma non so quanto vi possa interessare dopodiché sono andata avanti con una stanza tutta per sé e sono arrivata a pagina 90 metti a fuoco vabbè a pagina 95 quindi capitolo 5 e adesso devo dire che stavo facendo un po' fatica a leggere più che altro perché stare seduta tanto tempo a leggere basta mi stava un po' stancando e quindi ho deciso di iniziare ad ascoltarlo anche in audiolibro e lo rischio ad ascoltare in audiolibro perché ormai sono già entrata bene nel modo in cui è scritto quindi riesco a concentrarmi non mi perdo via come a volte rischio di fare con gli audiolibri e in più posso approfittarne intanto di fare altre cose quindi adesso mi sono ad esempio fatta un po' la doccia un po' la doccia non troppo insomma mi sono fatta la doccia mentre lo ascoltavo ora mi metterò a preparare la cena e quindi intanto lo lascio andare insomma in questo modo riesco a unire utile a dilettevole sono le tre e un quarto è mercoledì e ho i capelli bagnati perché li ho appena lavati ho fatto lezione fino alle due poi ho mangiato poi ho lavato i capelli poi ho sistemato alcune cose e alla fine insomma si è fatta quest'ora ora mi metto a leggere però volevo prima aggiornarvi un attimo perché ho finito ieri di ascoltare una stanza tutta per sé di Virginia Woolf ho iniziato leggendolo e poi alla fine ho ascoltato perché dovevo preparare la cena e devo dire che mi ha tenuto davvero molto compagnia l'ho ascoltato su Storytel mi è piaciuta molto la voce con cui è stato letto questo discorso di Virginia Woolf perché alla fine si tratta di un discorso che la scrittrice ha tenuto a una conferenza e che poi è stato rivisitato e riscritto per fare questo libro e in questo discorso praticamente lei era stata chiamata per parlare di donne e letteratura e lei per scrivere insomma quello che doveva dire si ritrova ad andare in biblioteca e inizia una riflessione molto più ampia su cosa significa essere delle donne ed essere delle scrittrici perché ben presto nota che ci sono pochissimi scaffali soprattutto se va a vedere quello che è stato scritto tanto prima di lei quindi andando nelle sezioni più vecchie ci sono pochissime autrici però allo stesso modo ci sono tanti uomini che parlano di donne e allora fa tutta una riflessione in merito e tutto il discorso è un po' come un viaggio con lei all'interno di questa biblioteca all'interno dei vari scaffali e praticamente è come se passassimo dagli scaffali più vecchi fino ad arrivare agli scaffali dei suoi tempi quindi 1929 mi sembra che sia stato pubblicato questo libro e in poche parole si vede quella che è l'evoluzione delle donne nei libri e lei in modo anche molto sarcastico ironico cerca di analizzare il come mai le donne non scrivono e arriva alla conclusione che per scrivere una donna ha bisogno di una stanza tutta per sé e del denaro mi è piaciuto davvero molto questo saggio penso che nonostante sia di stato scritto cento anni fa sia ancora molto molto attuale davvero incredibile sono rimasta sorpresa devo dire che è breve su Storytel ho visto che bene o male lo si riesce a leggere in cinque ore quindi sì in effetti anche quando mi dicono eh ma come fai a leggere così tanto beh questo libro ad esempio si legge in cinque ore quindi bene o male la durata di due film cioè in due sere uno invece che guardarsi un film si legge una stanza tutta per sé ed è riuscito in poche parole a leggersi un libro insomma ci sta ci sta ho fatto anche questa riflessione e secondo me con questo video si sta dimostrando come in realtà soprattutto quando si tratta di libri brevi il tempo per la lettura lo si trova anche perché io in questi giorni sto facendo anche tantissime altre cose e comunque non mi sembra di leggere basta poi ovviamente è quello a cui sono già abituata quindi forse dipende anche da questo in ogni caso ho iniziato poi a leggere Le Signore in Nero era forse il libro che stavo cercando si parla di grandi magazzini Le Signore in Nero sarebbero le commesse almeno questo ho capito dalla prima parte ci sono diverse donne come protagoniste e per ora io ho letto davvero 30 pagine quindi pochissimo si stanno un po' delineando i personaggi ed è una lettura leggerina per ora molto di intrattenimento quindi sono contenta e ora mi sono messa qua sul divano intenzione di leggere per un po' a a a a a a Grazie a tutti. È giovedì, sono le 14.26, stesso discorso degli altri giorni, quindi ho avuto lezione fino adesso, devo ancora mangiare tra l'altro, però prima volevo fare il mini aggiornamento e nulla. Sono andata avanti con la lettura di Le Signore in Nero, ma sinceramente non sto accelerando molto, quindi sto andando con calmissima e sono ancora a metà libro. Non sono preoccupata perché ho ancora oggi e domani fino alle 7 per finire, quindi sì, insomma, con calma ce la faccio e sto comunque continuando a dedicare molto tempo all'ascolto di L'acqua del lago non è mai dolce, che non è un libro che fa parte della challenge, però mi sta piacendo troppo e non riesco a smettere. Quindi quando inizio a leggere questo dico no, devo troppo sapere come va a finire l'altro libro e quindi sto continuando con quello là. E nulla, questo era l'aggiornamento di oggi, niente di speciale, andremo avanti, andremo avanti, con calma si fa tutto. Dunque, ho finito di leggere Le Signore in Nero, adesso è venerdì, sono le 11.06, questa mattina avrei dovuto avere lezione ma l'ho saltata perché dovevo per forza girare questa clip del video ora, in quanto questo pomeriggio avrò un impegno, quindi per forza di cose ho dovuto saltare, in ogni caso le lezioni verranno registrate, quindi avrò modo di recuperare tutto quanto. E ho finito anche sempre questa mattina di leggere le ultime pagine delle Signore in Nero. Vi do un attimo la mia opinione, penso che questo libro sia come livello molto basso, perché diciamo che ci sono proprio dei momenti mentre leggevo in cui mi sono chiesta ma che cosa sta succedendo, ma che cosa dicono questi personaggi, perché ci sono proprio delle frasi, dei momenti un po' trash, ok, dentro, e mentre lo leggevo avevo un po' anche questo senso di telenovelas, ovvero di tanti personaggi che si incastrano tra loro in cui succedono cose un po' anche forse scontate, cioè esempio, vabbè un po' spoiler ma chi se ne frega, c'è. All'inizio del libro c'è questa che non riesce a rimanere incinta e tu già a pagina 5 hai capito che lei rimarrà incinta entro la fine del libro, no? Tipo queste cose qua. Questi personaggi sono sicuramente ben definiti nel loro e le dinamiche anche diciamo che non sono niente di nuovo, le dinamiche tra personaggi non sono niente di nuovo, però comunque è un libro che si lascia leggere, molto scorrevole, non ho fatto assolutamente fatica anzi, ed è uno di quei libri secondo me anche un po' di stacco proprio tra un libro e l'altro, quando si vuole leggere qualcosa di super super leggero, però lo si deve leggere proprio senza aspettarsi assolutamente nulla, ed è un libro che, cioè insomma, non è sto granché, almeno secondo me. Non scendo troppo nei dettagli perché sennò dovrei fare un'analisi sicuramente molto più approfondita e secondo me non ne vale la pena. Perché? Perché comunque non è un libro secondo me neanche che si presenta come un capolavoro. È un libro che comunque, boh, io ho trovato un po' nei meandri dell'internet, l'ho preso in scambio, però non ho sentito parlare chissà che, quindi non devo neanche giustificare come mai non mi è piaciuto o come mai non sia un libro capolavoro, perché secondo me non si presenta come tale. A differenza, ad esempio, di un'eleganza del riccio, per cui sentendo tante opinioni super positive, mi sono sentita di voler dire come mai è un libro che secondo me non funziona. Questo qua non funziona proprio benissimo, però lo posso accettare. Penso tra l'altro che lo metterò in scambio o comunque me ne libererò in qualche modo perché non ho neanche intenzione di tenerlo e molto probabilmente di questo libro non ve ne parlerò più. Cioè non finirà nelle liste dei dieci libri consigliati o se finirà ci sarà sicuramente la premessa per cui è un libro proprio di una semplicità incredibile e da cui non bisogna aspettarsi nulla. E insomma sicuramente non mi rimarrà neanche chissà che in mente fra tanto tempo perché appunto un po' così. La storia comunque parla di queste signore di diversa età, dalla più giovane che ha finito la scuola a quella un po' più, diciamo, non anziana, però a quella un po' più grandicella che lavorano tutte queste signore in un centro commerciale in Australia e praticamente lì si vede vivere questa loro vita tra lavoro e vita personale in queste scene anche che partono già abbastanza nel mentre perché quello che è bello di questo libro è che proprio ci sono capitoli molto brevi, molto molto brevi, una o due pagine di capitolo, quindi super scorrevoli e partono sempre già nel mezzo di un discorso, nel mezzo di una scena per cui c'è sempre questa sensazione quando lo si legge di essere nel vivo degli eventi e non sembra mai di leggere qualcosa di troppo descrittivo, di troppo pesante. È un libro sicuramente che si lascia leggere. Detto questo, con questo libro qua ho concluso i sette libri da leggere questa settimana e sono arrivata quindi alla fine della challenge. Anche con anticipo perché la challenge finisce alle sette di questa sera, quindi ci tenevo a fare un attimo le conclusioni finali. Quindi tiro su i libri che ho preso e facciamo un attimo il punto. Allora, questi sono stati tutti i libri letti, a partire dal primo che ho letto che è stato questo di A Nice Nin, una graphic novel, che tra l'altro io dico sempre una graphic novel, ma sono quasi sicura che si dica un graphic novel, però è più forte di me e me ne rendo conto sempre dopo. Comunque, questa qui, che è sicuramente un graphic novel che vi consiglio perché è pieno di vita vera, pieno di controversie, racconta una vita fuori dal comune sicuramente, quella di A Nice Nin, e lascia sicuramente il segno. Quindi per me questo libro è un grande sì e sono contenta di averlo letto per questa challenge. Poi il secondo che ho letto è stato Femmine, è anche qua davvero top per me, questi saggi non si smentiscono mai, e ne comprerò sicuramente altri perché con questo ho letto tutti quelli che avevo, quindi vedo di fare qualche acquisto pazzo, perché è assolutamente promosso. Dopodiché ho letto Seta di Alessandro Baricco, ero partita un po' titubante, però devo dire che alla fine si è lasciato leggere questo libro, non è neanche così male come pensavo, quindi sono rimasta sufficientemente sorpresa. Penso che lo consiglierò anche in futuro, soprattutto a chi ha un po' il blocco del lettore, sta cercando qualcosa di iperleggero, ma comunque con la sua coerenza, con la sua linearità, col suo andare dove bisogna andare, insomma devo dire che pensavo molto peggio, quindi anche questo alla fine è promosso. Poi ho letto Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, e qua devo dire super promozione per questo libro, che rimane molto attuale, che è un libro secondo me da leggere se si hanno a cuore queste tematiche, quindi la parità di genere e soprattutto la questione donne e scrittura, perché Virginia Woolf tocca secondo me le corde giuste e lo fa anche in anticipo rispetto ai tempi, perché appunto ci sono cose di cui stiamo parlando soprattutto in questi anni e lei lo fa, e lei ne parla cento anni fa, quindi è assolutamente promosso questo libro. Dopodiché ho letto anche Siddhartha di Hermanesse, anche qui devo dire Munni, perché non è una cosa che mi ha sconvolto, in questo caso il libro era sicuramente stato presentato, almeno a me, come un capolavoro, avevo avuto questa percezione di libro super importante, imprescindibile, che bisognava leggere assolutamente. Io con questa cosa che bisogna leggere assolutamente un libro non concordo pienamente, perché le letture sono soggettive, in generale non ci sono libri che bisogna leggere assolutamente, anche perché quando penso a libri che bisogna leggere assolutamente, tipo il primo che mi viene in mente è tipo Invisibili, che è uno di quelli che suggerisco tipo sempre in ogni video, in ogni dove, qualsiasi cosa io lo suggerisco, perché lì ci sono secondo me all'interno dei dati, ci sono all'interno dei ragionamenti, ci sono all'interno delle dinamiche causa-effetto che sono oggettive e che possono dare effettivamente a chi lo legge una chiave per vedere il mondo, un qualcosa in più e mi piacerebbe poter parlare e confrontarmi sempre con persone che hanno letto quel libro per avere, insomma, lo stesso punto di partenza e di base come informazioni su cui poter ragionare, perché secondo me è un libro che dà tantissimi spunti sulla attualità eccetera eccetera e quindi quello forse è un libro che direi dovrebbero leggere tutti assolutamente, dovrebbero parlarne a scuola di quelle tematiche eccetera eccetera, però sicuramente Siddhartha non è un libro da leggere assolutamente, perché porta delle questioni molto personali, come il modo di vivere, il modo di intendere la vita, per cui sì, ci si può ritrovare molto, però come nel mio caso si può, ok, dire va bene, però non lascia il segno e quindi devo dire che sì, comunque non è un libro pretenzioso nel suo essere, secondo me, non esageratamente, quindi potrebbe essere che lo suggerirò ancora, perché secondo me c'è proprio una categoria di persone a cui piacciono molto questi libri e che sono quei libri che cercano, quindi devo dire che comunque non sono rimasta sconvolta. Dopodiché ho letto Web Creativity del mio professore, e questo non giudico neanche perché lo dovevo leggere per forza, questo sì, assolutamente, e sono stata costretta, quindi non era mia scelta leggerlo o meno, e poi Le Signore in Nero, che forse della Challenge è l'unico che boccio, perché insomma un proprio... un libretto, un libretto da spiaggia, un libretto da vacanza, però sarà che io ne sto leggendo tanti di libri, non è uno di quei libri per cui mi dico, wow, cioè non l'avessi letto sarebbe stata la stessa cosa, seguitemi in questo ragionamento, cioè non mi ha sinceramente trasportato in posti magnifici, immaginari, spettacolari, cose assurde. Mi fossi guardata Il Diavolo Veste Prada, per intenderci, avrei provato più emozione, Il Diavolo Veste Prada, film della vita poi, quindi va bene. E tra l'altro, una volta, faccio divago, ho letto Il Diavolo Veste Prada. L'ho letto ed è completamente diverso dal film, però non mi ricordo tanto perché l'ho letto tanti anni fa, e comunque non era neanche malissimo, cioè insomma, per essere un bestseller diciamo. Comunque basta, questo è stato tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere se avete letto i libri di cui ho parlato, se avete intenzione di farlo, cosa ne pensate, tutte insomma queste cose qua. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!